Oggi grande giornata Webinar, 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 webinar gratuito a tutti coloro che sono appena entrati nel video marketing immobiliare Yes, yes, ci prepariamo io e Tommaso fra pochi minuti intanto però devo raggiungere l'agenzia in incognito Tommaso mi raggiungerà fra poco nel frattempo però vado a controllare come siamo messi perché qui non c'è stato più nessuno per decenni per decenni infatti è da collegare anche la rete wifi Sotto colleghiamo un cavo direttamente al router qui sopra perché ci arriverebbe wifi ma fa tanta fatica e quindi abbiamo bisogno di banda abbiamo bisogno di banda C'è una gran puzza qui sotto Di idrocarburi Adesso apro la finestra se ci arrivo perché è un casino arrivare fin là Ok manca il microfono che è giù Le luci ci sono tutte Sì Qui c'è la postazione del Tomm Ok Direi che possiamo cominciare a preparare ma prima mi lavo le mani perché sono indecenti Ma prima di tutto sarebbe un errore fondamentale non accendere la macchina del caffè Allora per lavarmi le mani mi sono praticamente alluvionato i piedi Guarda qua Ok è una giornatina così ma io ci arrivi in fondo Se ci arrivi in fondo Ci mancherebbe altro ci arrivi in fondo Altro che storie Aspetta che do uno spillo a Tommaso Sai quello è abituato a dormire fino a orari praticamente improponibili Magari ancora lì che Che ronfa E non si ricorda che stamattina La regia è a carico suo Ah ma sei sveglio Dai Aspetta che ti metto in viva voce Sei sveglio? Ho finito adesso di preparare lo plane La scelta E parto Fantastico Allora ti aspetto Io sto preparando alcune cose E poi dopo facciamo le prove Ok? Yes Sì sì Comunque prima delle nove sono lì Sì Ok a frappè Ciao 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 La diretta con Umberto Gallo Mi sa che la possiamo togliere da qui Aia Prove inconfutabili Palle sparite Mi sa che la possiamo trocken Quattro Concurri Ciao 谤 Quattro ì Quattro Quattro questi sono i famosi led che sparano sul bianco quelli che mi chiedete spesso come fai a fare lo sfondo così bianco perché ci sono queste pappagne qua che sparano sullo sfondo solo sullo sfondo poi ci sono le altre una, due, ancora spenta tre, quattro eh? sono apparecchiato ecco sicuramente c'è una batteria qua ma chissà da quanto tempo che è qui infatti zero batterie queste sono le classiche Sony NP le più grosse perché così durano non prendere quelle sottili perché non servono assolutamente a niente adesso andiamo a prenderne delle altre così in fretta poi questa la mettiamo in carica sono fin troppe Tommaso in arrivo ciao saluto al mondo ecco sei sveglio? si si da un po' di ore si? pronto per la regia? è prontissimo fantastico sale via che si va qui abbiamo Tommaso che ormai è pronto per la sua prestazione quasi pronto quasi poco eh? questa è la sua dotazione vediamola meglio aspetta faccio il giro da dietro allora Tommi descrivi allora cosa abbiamo qua? la regia dove sceglieremo se vedere il viso di Paolino le spalle di Paolino le palle di Paolino non volevo dirlo io da qui monitor controllo cavi, cavetti, cavini e qui il signore la bestia la bestia la bestia ok perfetto questa è la telecamera principale una GH5 la intravedi la telecamera secondaria microfono insomma ragazzi le cose o si fanno bene o non si fanno bene però ecco un'altra prova inconfutabile come al solito c'è un qualche problemino tecnico tanto che l'audio l'audio non sta funzionando ne abbiamo fatto tutto perché l'audio funzioni speriamo che poi funzioni il mio audio perché finché non funziona l'audio del video è un conto se comincia il webinar e non si sente niente è un altro ma lo sapremo fra due minuti due seguimi ciao ciao buongiorno a tutti mi sentite? sì fatemi un cenno sì ciao sì arriva l'audio ecco perché è tanto per gradire vero? c'è stato qualche problemino tecnico per cui il video che è partito fino adesso non aveva l'audio giusto? non sentivate niente prima? niente fantastico bene sapete che se non c'è qualcosa che non va noi non ci divertiamo comunque ciao ciao a tutti grazie di essere qui io sono Paolo Marcelliano per chi non mi conosce sono in versione come vedete da lavoro e sono qua nel bunker nel famoso bunker dove registro tutte le mie cose insieme al mitico mitico Tommaso Marchi che fa la regia Tommy saluta adesso sta addirittura registrando quindi siccome io sono adituato a fare i vlog alla fine cioè il fuorionda come si chiama il backstage di quello che faccio anche perché ad alcuni piace vedere come sono apparecchiato no? quindi come sono le luci tutte queste robe qua giustamente sono interessati a questo questa è una macchina eccezionale finita finita è andata abbastanza bene vero Tommy? sì benissimo grazie a tutti Grazie a tutti.